Benvenuti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale Siamo qui oggi per dare un voto a tutte le big del campionato Voglio fare questo video qua Voglio dare un voto a tutte le big del campionato In questa loro terza giornata giocata Visto che hanno giocato tutte le big E visto che stasera 13 settembre ci sarà l'ultima partita che è Bologna-Verona Posso cogliere l'occasione di fare questo video qua e di dare un voto a tutte le big Sappiamo che ci sono stati due big match E anche per questo che faccio questo video qua Che sono stati Napoli-Venze su 2-1 Napoli E Milan-Lazio 2-2-0 Milan Però ha giocato anche l'Inter Ha giocato anche la Roma ragazzi E quindi facciamo questo video qua Prima di partire però con il video vi chiedo un pollicione sul video E un'iscrizione al canale ragazzi Mi raccomando fondamentale Iscrivetevi è totalmente gratuito Però lasciate anche un mi piace a questo video qua Per farmi sentire tutto il vostro supporto E noi partiamo subito Partiamo dal Napoli Al Napoli da un 7 e mezzo Un 7 e mezzo anche barrotto Comunque il Napoli ragazzi ha vinto la sua partita Magari l'ha vinta in maniera un po' rocambolesca Passatemi il termine Perché comunque la Juventus è artefice Di due gravi errori Di due gravi errori che hanno fatto rimontare la partita al Napoli Però è un Napoli che ha dominato Un Napoli che ha cercato sempre di giocare a calcio Un Napoli che si è dimostrato superiore nel collettivo In quella partita precisa si è dimostrato superiore E quindi un Napoli che anche meritatamente ha vinto quella partita A discapito di una Juventus A cui il voto che do è un 4 e mezzo Un Juventus che comunque nel primo tempo Era anche accettabile Che si sapeva che la Juventus avrebbe fatto Quella partita da là Una partita attendista Una partita difensiva Visto tutte le essenze E tutti gli alibi del caso Ma che non bisogna sempre tirare in mezzo È una squadra che deve ancora Che deve ancora incominciare il suo campionato Una squadra che non è ancora per niente partita Una squadra che deve ancora trovare la propria identità Per quanto riguarda ragazzi invece L'Inter L'Inter che pareggia 2-2 contro la Sampdoria Una Samp ottima secondo me A discapito di un Inter che nel primo tempo Ha giocato anche bene Ma che nel secondo comunque ha avuto le sue occasioni Per fare comunque il gol del 3-2 Mi viene in mente il tiro di Ciannoglu L'eccasione con Persic Quindi comunque un Inter che ha creato Ha provato Ma che secondo me anche l'orario in cui ha giocato Per ambo le squadre È stato un'ora un po' particolare Perché faceva caldo Infatti per me al 60-70 le squadre erano già stanche Però comunque un Inter che trova un punto importante Comunque su un campo difficile come quello contro la Sampdoria Mi viene in mente l'anno scorso L'Inter ha perso in quel campo Proprio contro la Sampdoria 1-0 Quindi per l'Inter andare lì non è mai facile Ha trovato un pareggio Non ha saputo a mio avviso gestire il doppio vantaggio che ha avuto Perché una volta sei andato avanti 1-0 Poi ti hanno recuperato Vai avanti 2-1 e poi ti hanno recuperato Questo non è nel DNA dell'Inter in questi ultimi due anni Farsi recuperare due gol Però comunque c'è margine di miglioramento Il mio voto comunque è un 6,5 Una squadra che viva Una squadra che gioca a calcio Una squadra che sicuramente potrà rifarsi la prossima giornata E magari anche già Mercoledì in Champions contro il Real Madrid L'Atalanta L'Atalanta ragazzi Che è una big secondo me Ha perso 2-1 contro una Fiorentina Che per me quest'anno farà una grande stagione Un Atalanta che ha iniziato un po' con il freno tirato Questa stagione 4 punti nelle prime 3 partite Una vittoria un po' rocambolesca all'ultima Contro il Torino Possiamo dire anche in meritato Un pareggio 0-0 contro il Bologna Nell'ultima giornata Dove forse poteva raccogliere qualcosa di più E ha perso l'ultima Contro la Fiorentina per 2-1 Un Atalanta che comunque ragazzi Non è che non gioca a calcio Attenzione L'Atalanta gioca a calcio E gioca anche bene a calcio Però secondo me In questo momento Manca un po' di finalizzazione là davanti Sarà che forse manca Müller Sarà che Dovan Zapata Deve ancora trovare la forma fisica Comunque questa partita L'Atalanta ha perso Sì che ha preso 2 gol Ma non ha preso gol su azione Ha preso gol sui 2 calci di rigore Però comunque davanti Aveva una grande Fiorentina Ci ha provato fino all'ultima Atalanta Con un'occasione anche con Zappacosta E tutti gli altri vari calcitori Però alla fine Non trova un punto Ne ha manco i 3 punti E' un'Atalanta a cui voto Do 5,5 Poteva fare sicuramente di più La prestazione comunque c'è stata Non è che ha giocato male l'Atalanta Anzi ha giocato anche Una buona partita Ha creato Ha cercato di pareggiarla E' rientrata in partita Ma poi non ce l'ha fatta Comunque è una squadra Che partita col freno a mano Come dicevo Può tranquillamente fare Una buona stagione Però in questo momento C'è da lavorare tanto Per Gasperini Per quanto riguarda ragazzi Invece il Milan Milan che vince Sur classe Il Milan sarà quello Che darò il voto più alto Al Milan dò un 9,5 Partita perfetta Ragazzi il Milan ha fatto Una partita perfetta Praticamente il Milan Ha Accolto la possibilità Di affrontare una Lazio Che non è ancora La Lazio di Sarri E Pioli l'ha preparata In maniera perfetta Non c'era Una sbavatura Sulla preparazione tattica Di mister Pioli In questa partita L'ha preparata In maniera perfetta Suo Al centrocampo Ha diciamo Ha limitato Nel Nel più Nel miglior modo possibile Milinkovic E Luis Alberto Facendoli fare una partita D'Ombro Una partita dove Praticamente non sono mai Stati dentro la partita Grande lavoro di Tonali E che si A centrocampo Un Milan che vince Meritatamente Un Milan che in campo Ha un giocatore Importante come Raffaeleau Che appena trova Un po' di continuità Può essere straripante Perché ha delle accelerate Quando ti salta Ragazzi Raffaeleau Un giocatore poi difficile Da prendere Appena trova continuità Quel calcitore È un calcitore importante Quindi 9,5 al Milan Alla Lazio Do lo stesso voto Che ho trovato la Juventus Ovvero un 4,5 Non mi aspettavo Questa prestazione Nella Lazio Comunque ha visto le prime Due partite Una Lazio che è stata Ridimensionata Come hanno detto Molti tifosi laziali Una Lazio che ha subito Una lezione di calcio Dalla squadra di Stefano Pioli Una squadra che comunque Ha 6 punti in classifica Quindi comunque ci sta Il primo stop stagionale Contro un Milan Che sappiamo Che è un'identità ben precisa Che è un progetto Ben avviato con Pioli Da anni Quindi ci poteva stare Questo incidente di percorso Una squadra che si deve Ancora ben assemblare Deve ancora ben capire Determinati meccanismi di gioco E come ha detto Sarri In conferenza stampo Una squadra che ha Tanti pensieri nella testa Che sta cambiando Pian piano il modo di pensare E di giocare Ci vuole tempo Perché venivano da 5 anni Dove giocavano sempre Alla stessa maniera Con lo stesso allenatore Dove comunque Hanno raggiunto Grandi risultati Però è un processo È un percorso Va dato tempo Alla squadra di Sarri E alla Lazio Perché sicuramente Si potrà togliere Belle soddisfazioni Banca la Roma La Roma che vince 2-1 Una partita stratosferica Bellissima Contro il Sassuolo Come ha detto Mourinho Questa partita qua Potrà finire 6-6 4-4 O 4-3 Sassuolo Perché è stata una partita Bellissima Dove il Sassuolo Sicuramente avrebbe meritato Qualcosina di più Perché ha preso un palo Perché due volte Rui Patrizio ha fatto Due miracoli A 2x2 Prima con Berardi E poi con Bogat Quindi però Una partita che poi La spunta la Roma La spunta con un gol Spettacolare Di Di Escheraui Una Roma che mi piace Una Roma che ho già detto Più volte Che per me Fuera una grande stagione Basta andare a ascoltare Le mie parole Nella mia prediction Alla classifica Dove l'ho messa a quarta Quindi per me Ragazzi La Roma Tornerà in Champions League Perché Innanzitutto c'è passione C'è cuore C'è una squadra Che segue Al 220% L'allenatore E che proprio Ci mette l'anima in campo E si è visto anche ieri Una partita difficile Come quella Col Sassuolo Do 7,5 Alla Roma Che è una squadra Che sicuramente Potrà fare Una grande stagione Poi lasciate un suo video Iscrivetevi al canale Ragazzi Noi ci picchiamo Un prossimo video Bella ragazzi Ciao